Io ho fatto il parlamentare europeo per quattro anni e la cosa drammatica dell'altro giorno era innanzitutto l'aula vuota di fronte al fatto che parlava il Presidente del Consiglio della Repubblica Italiana. Credo che non sia mai successa una cosa del genere e il primo segnale che viene da quel Parlamento è il crollo della credibilità del nostro Paese. Questo è il vero dato politico. E dentro un dibattito parlamentare mi sorprende che ora si lamentano per quella parola detta da Ferosta perché io da parlamentare europeo ricordo quando i leghisti contestarono il Presidente della Repubblica Carlo Azzeglio Ciampi in un'aula gremita perché l'Italia di Ciampi e del centro-sinistra era un'Italia che veniva guardata con rispetto e contava molto di più dentro l'Europa e nelle dinamiche intergovernative. Quindi il dato dell'intervento del Presidente del Consiglio Conte non è questa sceneggiata che ora stanno facendo perché qualcuno esprime ancora in maniera libera le proprie opinioni ma il fatto che dopo 8-9 mesi di governo l'Italia quando si presenta negli scenari internazionali o di fronte a Orban che conta pochissimo nel mondo o di fronte a chi sponsorizza una linea di politica a essere distruttiva come magari il Presidente Trump o il Presidente Putin quando si presenta in contesti internazionali non conta più niente. Questo è il dato politico che noi dobbiamo rilevare anche perché i parlamentari sono liberi. Non sono lì su ordine del governo. Insomma lei quasi applaude allora a chi ha detto burattino a Conte. Io non applaudo ma condivido il fatto che noi stiamo pagando in maniera drammatica soprattutto i cittadini italiani stanno pagando in maniera drammatica il fatto che il governo ha una maggioranza parlamentare ma in realtà quello che prevale sono gli interessi di due partiti che decidono tutto sulla base degli interessi dei due partiti e non sugli interessi del nostro paese. E questo è il dato drammatico che ci ha portato in nove mesi di governo ad avere i dati economici del lavoro e dello sviluppo che conosciamo. Ed è anche imbarazzante che di fronte a questa tragedia per gli italiani si continua a far finta di niente. a fare selfie o a costruire polemiche solo perché dentro un Parlamento c'è stata una dialettica accesa tra un capogruppo e un capo di governo.